La Valtellina è nota per i suoi vini rossi, austeri e di lungo invecchiamento. Questo non vuol dire che sia rimasta ancorata al passato, bensì oggi inserisce nella propria gamma vini più freschi, come i vini bianchi, vini di minore invecchiamento, più di pronta beva, e addirittura vini passati in barrique. Una figura storica. È stato il primo direttore della Foglianini, lui era Alberto Baiocchi. La Valtellina piange oggi alla scomparsa del dirigente, di un uomo che amava profondamente il suo lavoro e la nostra terra. I risultati ai traguardi raggiunti oggi dalla Fondazione Foglianini, in fondo, sono figli e frutto di questo piemontese di Verbagna, giunto a Sondro nei primi anni 70, proprio per volere della Fondazione e della famiglia Foglianini. Chiamato dagli agricoltori con affetto e ammirazione il dottorin, il dottorino, Baiocchi è stato anche un personaggio scomodo, che poco piaceva ai poteri forti di allora. Grande l'impulso da lui dato alla ricerca e al lavoro sui nostri terrazzamenti, fra le tante iniziative anche quella di riportare le piante di olive in valle, soprattutto in quei terreni marginali e vigneti ormai abbandonati da altre forme di agricoltura. Ma sarebbe riduttivo, in pochi secondi, raccontare trent'anni di attività. Graziano Murada, che ne è stato l'allievo, ricorda oggi che la Valtellina deve non tanto, ma tantissimo a questa persona, che, aggiungiamo noi, forse è stata dimenticata troppo presto. Oggi sono svolti i funerali, ma per ricordarsi del dottorin di Verbania, che ha fatto grande la Foglianini, basta alzare lo sguardo verso i nostri vigneti.